Siamo all'Istituto Stendhal, alcune ragazze che hanno fatto l'esame di maturità, come è andato questo orale? Molto bene, devo dire meglio delle aspettative. E per te invece come è andata? Bene, bene. Molto bene, io comunque vengo da privatista, quindi per me è stato... già sono iniziati gli esami dall'ammissione a fine maggio, quindi ero già un po' preparata a livello simulatorio su questo esame. Bene, impegnativo però bene, penso di aver fatto del mio meglio, poi come esco, esco, insomma, so quello che ho fatto, quindi spero che sia andato tutto bene. Quanto è durato l'esame, quante cose vi hanno chiesto, quanti argomenti avete toccato? Una mezz'oretta, 40 minuti, però tutte le materie abbiamo toccato. Anche per te la stessa cosa? Sì, il mio è durato un po' di più, un'oretta e tutte le materie, il PCTO. E adesso che si fa? Subito pensiero al futuro oppure vi riposerete? Prima mare e poi si pensano all'università, a settembre l'università. E per te la stessa cosa? Sì, la stessa cosa. Ci sono delle differenze che emergono per quanto riguarda fare esame da privatista oppure quello che conosciamo tutti? Beh, sicuramente i miei compagni sono molto avvantaggiati a frequentare perché comunque i voti finali vengono poi da durante il percorso scolastico, mentre io ho dovuto riassumere tutto il percorso scolastico e non solo esame da missione a fine maggio. Quindi sicuramente sono molto più avvantaggiati a frequentare. Te l'aspettavi peggio o meglio? Oddio, in realtà me l'aspettavo molto peggio, invece fortunatamente ho avuto una commissione molto tranquilla. È andata molto bene, la commissione è stata molto anche umana, ha fatto anche domande personali sulla vita, quello che vogliamo fare dopo. Le domande sono state inerenti comunque al discorso, non hanno mai sviato quel programma. Le risposte? Le risposte? Credo soddisfacenti, vedremo a fine, al risponso finale. È stata più difficile questa prova orale, la prima prova o la seconda prova? La prima, assolutamente gli iscritti sono stati in un trauma, però a livello di preparazione mentale l'orale è stato molto più gestibile comunque. E adesso che si fa? Subito pensiero al futuro oppure vi riposerete? Prima mare e poi si pensano all'università, a settembre l'università. E per te la stessa cosa? Sì, la stessa cosa. E adesso nulla, adesso mi guado all'estate e poi il prossimo anno si punta all'università.